So che hanno cambiato il palleggiatore che per me è uno dei palleggiatori migliori al mondo quindi magari il loro gioco potrà essere un pochettino cambiato rispetto alla VNL che appunto come dicevi tu è stata la prima partita di VNL per cui dovremo comunque ristudiarle e mi ricordo che la partita scorsa avevamo comunque giocato bene quindi spero solo di poter fare meglio. Sì stiamo giocando bene e mi auguro appunto che la squadra continui a farlo che si sia superato l'Europeo in realtà forse non si supera mai però sappiamo che abbiamo questo grande obiettivo davanti quindi faremo di tutto per fare in modo di portare a casa un biglietto per Parigi. Serve tanto riposo ma anche comunque continuare un po' a spingere con i pesi che è importante e poi cercare di... almeno io mi svago il più possibile al di fuori del momento di gioco per recuperare anche un po' di energie mentali. Grazie. 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 Grazie.